Buonasera da Napoli, finita la seconda giornata di regate delle America's Cup World Series, ci sono state due regate di flotta, due regate di match race, ma quello di cui si parlerà è ancora a lungo di quanto è successo alla prima bodybolina nel match che vedeva opposto Dean Barker in il timoniare neozelandese a bordo evidentemente del cat neozelandese e su Warfish timonato da Francesco Bruni. Alla bodybolina entro le due lunghezze le barche sono arrivate ingaggiate, non importava che la barca neozelandese fosse con le mura a destra, aveva comunque diritto di rotta Francesco Bruni che ha cercato di sfruttare il suo vantaggio, non si sa cosa sia passato nella testa di Dean Barker, di fatto c'è stata una violenta collisione tra i due scafi. Chi ne ha pagato le conseguenze è evidentemente stato il team neozelandese che ha subito la penalità e dunque ha finito la regata in seconda posizione, ma non è andata bene neppure per il nostro equipaggio, visto che nel corso della seconda regata di flotta per le conseguenze di quella prima grande collisione è stata costretta al ritiro. Adesso le domande che tutto il pubblico si pone, soprattutto gli addetti ai lavori, sono che cosa può succedere quando le barche saranno ancora più veloci, cioè grandi il doppio a San Francisco in una situazione molto più complicata. Quello che abbiamo visto sono barche davvero molto difficili da condurre e intorno alle boi complicatissimi da gestire nelle situazioni intricate. Si parlerà della collisione, della quale certamente vedrete presto i filmati ancora a lungo, ognuno avrà la sua propria opinione, ma quello che è certo e su cui tutti concordano è che la Coppa America sarà davvero molto molto complicata, probabilmente ancora di più di quanto i più pessimisti potevano immaginare.